È iniziata la fase 2, la fase che riapre le porte agli italiani e finalmente c'è questo barlume di speranza. Oggi i primi rientri da Roma, siamo venuti proprio qui alla stazione centrale di Benevento per accogliere i concittadini che sono stati bloccati durante il blocco, durante questa quarantena, che sono rimasti bloccati in altre città come a Roma. Vediamo i primi arrivi che sono stati ovviamente anche ipercontrollati. A me è stata abbastanza dura, dopo due mesi che non torno a casa, quindi ora mi è arrivato un po' di relax. È appena arrivato il treno da Roma, qui a Benevento, alla stazione centrale di Benevento, e tutti i passeggeri in questo momento vengono trasferiti in un punto di ritrovo per le verifiche, per monitorare il loro stato di salute. Ecco, vediamo che in ordine stanno andando verso l'uscita. Sono andata da mia figlia a trovarla e sono rimasta bloccata a Roma, a Monte Rotondo. Quindi oggi, dopo due mesi, il rientro a casa. Ricordiamo che questo è il primo giorno della fase 2, quindi praticamente gli spostamenti sono sicuramente maggiori. Ecco, c'è la stanza praticamente predisposta per le verifiche, dove i passeggeri dovranno ovviamente conferire le autocertificazioni, spiegare la provenienza e in questo locale verrà misurata la febbre, insomma ha fatto una sorta di prima visita. Sono rimasta bloccata a Roma durante questo periodo di lockdown, quindi ora finalmente spero di poter tornare, manca poco.